In casa nostra da un po' di tempo sono arrivati i giochini di legno, vero Rebecca? Secondo me sono belli, diciamo che abbiamo scoperti al nido perché al nido ne fanno larghissimo uso, sono molto molto belli perché loro imparano molto velocemente la manualità delle forme, nel senso che riescono a incastrare con le loro manine le cose, sono colorati, questi li tengono impegnati per un pochino, tendenzialmente non costano molto, questi qua li abbiamo trovati credo in un grande magazzino e costassero tipo 3,50 euro o 4,01 euro e Rebecca non fa altro che tirarli fuori, ne abbiamo un bel po', ne abbiamo diversi pianaletti di legno con queste formine qua che si incassano un po' così, questi qua sono semplici perché c'è l'immagine e ovviamente la figura si capisce già dove va messa, però ce ne sono tanti altri in cui si capisce un po' meno e quindi la bambina deve metterci un po' di fantasia e un po' di buona volontà, un bel acquisto, qualcosa da sicuramente consigliato, ciao ciao! 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 Ciao!